Grazie. 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 che credo è importante, che poi nei miei numerosi, anche troppo numerosi libri, qualcun altro potrà vedere già letto, ma intanto è utile qui. Diciamo che la prima considerazione è che io ho studiato, o già ho fatto il mio corso universitario dai 40 ai 35 anni fa, ed era normale quello che abbiamo sentito dai nostri relatori dell'MMT, era post-keinesismo, era Caldor, era rapporto Redcliffe, erano tutte quelle cose che consentivano di governare in un modo abbastanza equilibrato un'economia e farla crescere. Poi dopo, durante gli anni 80 e 90, per esempio, la moneta, la politica monetaria, erano scomparse anche dalle università italiane, non si poteva parlare di moneta, era forbidden, era proibito. Dopo la laurea a Roma e un periodo di ricerca a Berkeley nel 78, cominciò la mia esperienza come funzionario nello Stato. Allora c'era il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, che oggi sarebbe un pezzo, un dipartimento del Ministero dell'Economia, insomma la stessa cosa, e collaboravo anche con Federico Caffè. In sostanza, praticamente, cominciarono ad arrivare dei funzionari del Fondo Monetario Internazionale e a sostituire alcuni di noi, tra l'altro con paghe completamente diverse dalle nostre, ma non ne sapevano più di noi che bene o male avevamo vinto un concorso, avevamo studiato, eccetera, e quindi cominciarono i primi attriti. Per farla breve, io feci un'elaborazione di quello che sarebbe successo col famoso divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia, che è l'architrave di tutto quello che stiamo dicendo qui, cioè lo Stato che non chiede moneta, ma in qualche modo, o si basa sui vincoli di portafoglio alle banche che debbono assorbire i suoi titoli a bassissimi tassi di interesse, che è un po' la stessa cosa che emettere moneta, in un certo senso non c'è una grande differenza, ma che invece non ha più questa facoltà, rinuncia a questa facoltà e quindi si rivolge direttamente al mercato, che poi non è il mercato, ma sono quelle 4, 5, 6 banche di interesse nazionale in via di essere privatizzate, che ovviamente utilizzavano soprattutto un metodo ancora più drastico di quello successivo per far crescere in modo esorbitante i tassi di interesse. Cioè praticamente lo Stato chiedeva per esempio 5.000 miliardi, allora c'erano le lire, ve le ricordate, chiedeva 5.000 miliardi, ne comperavano 4.500 al tasso di quel giorno e per far assorbire gli ultimi 500 si faceva schizzare il tasso dell'interesse che praticamente arrivava a livelli insopportabili. Io feci i miei calcoletti, niente di straordinario, e arrivai a due conclusioni che furono oggetto di un mio documento al Ministro, e cioè dissi praticamente che con quel sistema nel giro di 6-7 anni il debito pubblico sarebbe raddoppiato e avrebbe superato il PIL e seconda cosa che avremmo spiazzato un'intera generazione di giovani e la disoccupazione giovanile in Italia sarebbe salita oltre il 50% nel giro sempre dello stesso periodo perché questi alti tassi di interesse avrebbero accorciato l'orizzonte degli investimenti delle imprese e quindi non avrebbero fatto assumere eccetera. Mi dissero che ero pazzo perché il debito pubblico non poteva mai superare il PIL che se no il sistema saltava e io gli dissi che se il debito era uno stock e il PIL era un flusso, non era possibile questa considerazione. E poi mi dissero che era impossibile che la disoccupazione giovanile aumentasse così anziché si sarebbero intraprese una serie di misure di flessibilizzazione per consentire ai giovani di trovare lavoro. Il litigio aumentò enormemente e alla fine insomma per farla breve me ne andai dalla pubblica amministrazione e tornai in parte negli Stati Uniti a Houston poi feci delle altre cose in Italia. Nell'89 andavo a dei seminari, a degli incontri che erano organizzati dall'onorevole, dal senatore Don H. Ten e il quale pubblicava nella sua rivista Terza Fase i miei articoli appunto su queste problematiche monetarie e una giornalista del manifesto, una certa Norma Rangeri fece un articolo su di me scrivendo appunto che siccome il debito pubblico aveva superato il PIL quell'anno e la disoccupazione giovanile in Italia, record mondiale, era il 56% c'era stato uno scuro funzionario del Ministero del Bilancio che l'aveva detto e che però invece che essere ascoltato era stato costretto ad allontanarsi. Questo creò un grande tafferuglio sui mass media al culmine dei quali mi iscrisse un certo Giulio Andreotti che doveva fare il governo e mi disse caro Galloni vuoi collaborare per cambiare l'economia di questo paese perché c'era comunque qualcuno che non la pensava in modo allineato eccetera eccetera. E io ovviamente aderi entusiasticamente mi mise a disposizione del suo braccio destro il quale mi chiese che ha già fatto per cambiare l'economia di questo paese avete capito di quale ministro sto parlando no molto simpatico fatemi finire il discorso e gli dissi guardi lei si faccia dare il Ministero del Bilancio al prossimo governo e poi metta a me a capo della struttura al resto ci penso io e così fu mi chiamò e mi disse sono Ministro del Bilancio vieni subito io andai là non solo mi mise a capo praticamente di tutta la struttura tecnica del Ministero ma anche di un gruppo di 25 professori universitari di economia e cominciamo a mettere le mani alla famosa relazione previsionale e programmatica che sarebbe come il documento di politica economica di oggi la finalità di questa mia azione era quella di rallentare il processo che avrebbe portato all'euro cioè non che noi non volessimo quel percorso ma lo volevamo in tempi diversi adeguati alle esigenze dell'Italia anche di ristrutturazione e riconversione industriale in condizioni di sviluppo economico e non in condizioni recessive perché questo avrebbe fatto la differenza fra creare posti di lavoro buoni e invece perderli dopo qualche settimana che lavoravo a questo progetto successe cataclisma la fondazione Agnelli, la Confindustria persino telefonò all'allora Ministro del Tesoro Guido Carli, un certo Helmut Kohl io ero tutto sommato per quanto mi avessero messo a capo della struttura mi sentivo sempre un piccolo funzionario uno che studiava, uno che scriveva, uno che diceva le sue cose per carità però una telefonata su di me da parte di Helmut Kohl confermatami poi da Pomicino mi sembrò una cosa esagerata e lui mi fece capire che non c'era più spazio per questo mio tentativo e io scrissi su un pezzettino di carta perché lui mi disse di non parlare che c'erano i microfoni e gli scrissi ma per caso hanno telefonato perché così e così non è più possibile portare avanti questo discorso lui mi fece così con la testa lo stracciò in mille pezzettini e lo buttò nel cestino allora praticamente Carlo Donacatenn poi mi chiamò a fare il direttore generale al ministero del lavoro e lì iniziò poi un'altra esperienza di cui dovrò dire rapidamente perché c'entra con le tematiche di oggi prima volevo però sottolinearvi due passaggi che sono un po' più che aneddoti ero stato incaricato da una parte della democrazia cristiana e di prendere contatti con una parte del partito comunista per vedere, sono ritornato agli anni Ottanta se era possibile una linea di politica economica e monetaria diversa da quella accettata dall'establishment della stessa sinistra democristiana nel suo complesso la cosiddetta sinistra politica mentre invece la sinistra sociale, quella di Donacatenn era contraria al divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia e tutto il resto e vedere se nel partito comunista c'era qualcuno che era d'accordo abbiamo fatto dei seminari prima avevo fatto dei seminari anche con un'altra rivista itinerari si chiamava venivano altre persone molto modeste a vedere di che cosa si parlava uno si chiamava Mario Draghi un altro era un certo Giulio Tremonti tutta gente piccolina e tranquilla poi dopo ha fatto carriera ma che cosa successe quando io presi contatto con questi del Cespe di cui poi il più rappresentativo era il professor Azzolini che un certo Carlo Azzeglio Ciampi telefonò a Berlinguer e gli disse che se si fosse andati avanti in quel discorso se si fosse parlato di moneta tutti i figli della nomenclatura comunista che stavano negli uffici studi delle banche dovevano andare a casa quella fu la fine del dibattito e c'è proprio da batte le mani c'è da piangere qui su questo l'altro aneddoto perché è significativo anche del discorso che sto cercando di fare è il seguente quando io entrai sì chiudo chiudo quando io entrai lì al Ministero del Bilancio mi occupavo anche di studiare la società italiana e rilevai in una mia pubblicazione che c'erano questi sussidi di diciamo di queste pensioni di invalidità dati in giro che erano superiori a qualunque logica e allora io denunciai questo fatto mi chiamarono ad altissimo livello e mi dissero Gallo non rompere perché noi dobbiamo combattere il terrorismo qui se non rompiamo il cartello dei disoccupati nel mezzogiorno c'è un'alleanza possibile fra le Brigate Rosse che al nord hanno un accetto seguito e i disoccupati del sud e succede un disastro e io dissi va bene mi sembra un'argomentazione buona tre anni dopo divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia titoli del debito pubblico offerti direttamente al mercato per finanziare la spesa pubblica spesa per i disoccupati spesa per le pensioni di invalidità per rompere il cartello dei disoccupati finanziati come se fossero investimenti buoni o addirittura al 20% cioè questo ha fatto esplodere il nostro debito pubblico che da una parte questa classe dirigente diceva che bisognava separare il potere dei politici dagli investimenti pubblici in realtà per indebolire il paese e dall'altra poi voleva finanziare spese assistenzialistiche ad elevatissimi tassi di interesse facendo esplodere il debito pubblico e da quell'errore che noi abbiamo pagato tutto il resto in termini di debito eccetera avrei da dire molte cose ancora su tutto il problema di quello che poi ho combattuto al Ministero del Lavoro contro la confusione fra flessibilità del lavoro che era necessaria e precarizzazione che ci ha rovinato che ci ha rovinato ricordare ricordare in due battute anche che purtroppo fino agli anni 90 noi direttori generali potevamo prendere i ministri e sbatterli contro il muro se era necessario nell'interesse del paese e dopodiché siamo stati completamente emarginati e resi dei servi da che eravamo cioè funzionari dello Stato ci siamo ritrovati a essere funzionari del governo tutto un altro film e per concludere perché è importante ricordare questa cosa io adesso ho scritto un libro che si chiama Chi ha tradito l'economia italiana che è stato appena stampato ne ho regalato una coppia qui ai nostri ospiti però sono arrivata alla conclusione che anche se questa è l'uccisione di Moro si possa inquadrare nel tentativo di indebolire l'Italia perché sia Buffy sia tutta la sua scuola non è che non volevano l'Italia in Europa volevano l'Italia in Europa ma con tempi e modi possibili e che quindi questa Italia che produceva con questa sua industria con queste sue partecipazioni statali con questi suoi modelli alternativi faceva veramente paura e dava veramente fastidio sia tedeschi sia francesi grazie molto per il franzo e per i giornali grazie grazie